Musica Pertice di maggioranza sulla manovra, Lega avanti con 400 sulle pensioni, Di Maio, reddito di cittadinanza solo agli italiani, Salvini non ci sarà l'aumento dell'IVA. La vicenda è chiusa, così il sottosegretario Giorgetti sui giochi olimpici 2026 dopo il rilancio del ministro Toninelli sulla candidatura unica di Torino. In Italia più di 1.200.000 bimbi e ragazzi vivono in povertà assoluta, a denunciarlo l'Unicef che chiede con urgenza un piano di interventi e azioni per ridurre il fenomeno. Riforma interlocali in Friuli-Venezia-Giulia, un Friuli-Venezia-Giulia diviso in tre, questa l'idea lanciata da Ferruccio Saro, coordinatore di progetto FWG, in un incontro sul tema. Buonasera e ben ritrovati in questa edizione del nostro TG News Ultima Hora. Apriamo dunque con le informazioni di carattere nazionale, parliamo ancora di manovra perché c'è l'impegno del ministro dell'economia Tria a cercare soluzioni. Ha preso atto della volontà politica di Lega e Movimento 5 Stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, le proposte saranno affinate. Così, secondo fonti della Rega, si sarebbe espresso un partecipante al vertice odierno di maggioranza sulla manovra a Palazzo Chigi. La Lega conferma quota 100 sulle pensioni e la riforma fiscale con un miliardo per la superiores. Deficit, nessun tabù sul 2% secondo Movimento 5 Stelle. Il reddito di cittadinanza andrà solo ai cittadini italiani, precisa il vicepremier Di Maio. Salvini plaude, mentre il presidente a merito della consulta Mirabelli su quest'ultimo aspetto parla di rischio in costituzionalità. Non ci sarà l'aumento dell'IVA, inoltre annunciato Salvini e su Migranti e Sicurezza, l'ipotesi di un unico decreto lunedì in Consiglio dei Ministri. La vicenda è chiusa, così il sottosegretario Giancarlo Giorgetti sui giochi olimpici 2026, dopo che in giornata il ministro delle infrastrutture Toninelli aveva rilanciato la candidatura di Torino, ritenendola la scelta migliore e auspicando una soluzione condivisa con la Lega. La scorsa settimana, ha affermato Giorgetti, ho mandato una bozza per il protocollo d'intesa alle tre città, ossia oltre a Torino, Milano e Cortina, ma mi sembra che non sono intenzionata a sottoscriverla e quindi ha detto la vicenda è chiusa. E a proposito del ministro Toninelli, come leggiamo sul sito di TG Com 24, sbandiera al decreto Genova, ma al Quirinale non è mai arrivato. Il decreto è pronto, sarà in gazzetta ufficiale nelle prossime ore, ha detto il ministro, annunciando il passaggio con cui il provvedimento entrerà in vigore. Al Quirinale però non risulterebbe arrivato. I tecnici del Colle, come leggiamo anche nel sito TG Com 24, mettono infatti le mani avanti e fanno anche presente che ci vorrà del tempo per leggerlo. Inoltre il decreto potrebbe anche subire modifiche in Parlamento durante la fase di conversione in legge, ma non solo. Il decreto rischia di scatenare una guerra legale con autostrade, dall'esito incerto per lo Stato, una situazione dunque che non accelera l'iter. In Italia, lo avete sentito nei titoli, oltre 1 milione e 200 mila bambini e ragazzi vivono in povertà assoluta. Rappresentano il 12,1% del totale. A denunciarlo è l'Unicef che spiega che altri 2 milioni e 156 mila bambini e ragazzi vivono in un stato di povertà relativa. È inammissibile, commenta il presidente di Unicef Italia, Francesco Samengo, occorre a ferma da subito stabilire un piano di investimenti e azioni che possano ovviare a questa situazione di disagio che non tende a fermarsi ma che anzi è in aumento. Leggiamo anche per quanto riguarda l'Italia una notizia aggiunta da pochissimo in redazione perché è stata trovata la lettera che costò a Galileo Galilei l'accusa di eresia. Ne dà notizia la rivista Nature sul suo sito precisando che il documento è stato scoperto in agosto a Londra in una biblioteca della Royal Society da uno storico della scienza italiana, Salvatore Ricciardo. In sette pagine scritte il 21 dicembre 1613 Galileo esponeva a un amico la sua teoria sul movimento della terra intorno al sole opposta alla tesi della chiesa secondo la quale la terra era immobile la cosiddetta teoria geocentrica. Ecco, vediamo anche un'immagine di questa lettera. Rispostiamoci però sul territorio regionale per parlare di politica perché in serata è stata aperta al Parco Rubbia di Pradamano la festa regionale della Lega in programma fino a domenica giornata finale in cui è atteso anche Matteo Salvini una festa, come spiegato, per esaminare il lavoro svolto e ragionare sugli obiettivi futuri. Il centrodestra in Friuli Venezia Giulia rimane compatto ha affermato a margine della manifestazione il governatore Fedriga abbiamo una maggioranza che funziona, ha detto e ci auguriamo di continuare a governare per i prossimi cinque anni. E alla domanda, visto che a livello nazionale dove invece Fratelli d'Italia e Forza Italia sono all'opposizione si può dire, ha replicato scherzando Fedriga, che facciamo maggioranza e opposizione si tratta di un valore aggiunto. Tra i presenti alla manifestazione, ovviamente anche il sindaco di Udine Pietro Fontanini che ha tracciato un bilancio sui primi mesi di mandato Udine si sta rialzando, ha affermato vogliamo riportare la legalità, ha commentato tra i vari aspetti annunciando che anche in città verranno abbattute delle case costruite abusivamente devono essere abbattute su ordine della magistratura, ha detto Pietro Fontanini abbiamo già fatto una gara che purtroppo è andata deserta ne faremo una nuova e se non troveremo aziende disponibili ha affermato il primo cittadino ci rivolgeremo al genio militare per un aiuto. Un Friuli Venezia Giulia diviso in tre questa è l'idea di Regione Leggera lanciata da Ferruccio Saro, coordinatore di progetto FWG questa sera promotore di un incontro sul futuro degli enti locali con l'assessore Roberti che dal canto suo prende ancora tempo. Si sta ridisegnando il Friuli nella sua geografia amministrativa assessore Roberti da questo incontro tanti consigli utili poi le decisioni alla giunta l'idea di fondo è quella di ripristinare le cosiddette province speciali ma quante saranno? Ad oggi si ascolta ancora non ci sono ancora formule magiche perché prima dobbiamo individuare e discutere con il territorio quelle che sono le necessità, i bisogni e a quei bisogni dovremo dare adeguate risposte. Sicuramente c'è la necessità da parte degli enti locali che rispetto a 10, 15 o 20 anni fa hanno meno risorse di tipo economico e meno risorse in termini di personale a disposizione di trovare un'organizzazione che regga non perché la Regione decide di farla funzionare dando soldi in più o dando più possibilità di assumere ma perché effettivamente è il miglior modello organizzativo possibile. Ferruccio Sara è un neocorrinatore di progetto FWG l'assessore Roberti dice che ancora non c'è la formula magica alla vostra quale potrebbe essere? La nostra formula magica è una regione leggera cioè che decentra tutta una storia di funzioni amministrative che oggi svolge la creazione di tre aree vaste una è il Friuli orientale una è il Friuli centrale e la Venezia Giulia cioè Trieste, Gorizia e Monfalcone la superamento delle UTI con la costituzione delle unioni volontarie dei comuni e associazioni volontarie dei comuni con un meccanismo premiante per chi si mette assieme per gestire i vari servizi inoltre siamo convinti che in questo quadro per esempio vadano assunti dei provvedimenti che consentono di rendere più efficiente l'amministrazione come per esempio dobbiamo cercare di fare superare la Bassanini che oggi pone dei limiti enormi all'operatività sia della regione da un lato che dei comuni dall'altro la Guardia di Finanza ha diffuso oggi a livello nazionale i risultati dei controlli estivi nelle località turistiche e sulle spiagge del nostro paese una casa vacanza su due è risultata affittata in maniera irregolare e più di 4.000 i venditori abusivi individuati ma nella nostra provincia il fenomeno risulta in calo meno venditori abusivi di materiale contraffatto dalla lotta al sommerso invece i risultati sono costanti nel tempo è quanto emerge da un primo bilancio dell'attività estiva della Guardia di Finanza in provincia di Udine attività che si è concentrata soprattutto su Lignano Sabbia d'Oro la principale località turistica della provincia quanto a presenze locazioni abusive lavoratori in nero vendita di materiale contraffatto queste le principali linee di azione delle fiamme gialle 500 gli interventi in materia di abusivismo commerciale e violazioni fiscali con il sequestro di 54.000 articoli contraffatti in calo rispetto agli anni scorsi ha commentato il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Udine il colonnello Sergio Schena eseguiti anche 19 controlli mirati poiché basati su dati già acquisiti per affitti in nero sono stati segnalati all'Agenzia delle Entrate 830.000 euro di redditi da fabbricati non dichiarati da 54 soggetti 35 dei quali residenti fuori regione a livello nazionale dai controlli delle fiamme gialle emerso che un'abitazione su due è stata affittata in maniera irregolare durante le vacanze per quanto riguarda infine la lotta allo spaccio di stupefacenti il bilancio estivo delle fiamme gialle e friulane è di 4 arresti 27 denunce e quasi 3,5 kg di stupefacente sequestrato e passando dal mare alla montagna di rilievo ha concluso il colonnello Schena anche l'attività di soccorso in montagna con 34 interventi 57 persone aiutate delle quali 52 sono state tratte in salvo sempre per la cronaca parliamo anche di una discarica non autorizzata scoperta a Udine come riporta anche il sito di Udine Today con le relative immagini ad accertarlo sono stati gli agenti della polizia locale dell'Utifriuli centrale con il supporto del personale tecnico di ARPA FWG l'area posta sotto controllo è stata individuata nei pressi di un capannone con annessa abitazione e area pertinenziale scoperta nella zona della tangenziale Ovest vi si accede tramite una stradina sterrata sul posto come potete vedere sono stati trovati vari materiali da costruzione scarti provenienti da demolizioni di tetti in Ethernet pneumatici fuori uso bidoni contenenti pittura elettrodomestici in disuso a seguito degli accertamenti è stata effettuata una segnalazione all'autorità giudiziaria parliamo anche della prima tranche di lavori sulla 4 fra la Tisana e il nodo di Palmanova una serie di interventi che richiederanno la chiusura del tratto dalle ore 21 di sabato alle 8 di domenica la chiusura spiega Autovie Venete consentirà di spostare il traffico dalle attuali carreggiate a quelle nuove dunque nel tratto la Tisana San Giorgio di Nogaro dalle 18 di sabato saranno chiuse anche le aree di servizio di Gonars Sud e di Gonars Nord una volta riaperta l'autostrada la circolazione verrà convogliata sul nuovo manto stradale nel tratto compreso fra la Tisana e il ponte sul fiume Cragno e tra Pampaluna e Porpetto durante la stessa notte saranno effettuati due altri interventi compresi nel primo sublotto Gonars Palmanova del quarto lotto Gonars Villesse durante la chiusura sarà infatti gettata la soletta in calcestruzzo del cavalcavia che da Fauglis porta a Bagnaria Arsa e sarà varato il nuovo sovrappasso sulla strada provinciale che va sempre da Fauglis a Bagnaria Arsa i due manufatti sono paralleli e si trovano a circa 600 metri di distanza l'uno dall'altro e a proposito di trasporti ferrovie lunedì nuovo sciopero degli addetti alle pulizie porre fine alla degenerazione del sistema degli appalti di pulizie delle ferrovie rilanciando l'occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori è infatti quanto chiedono le segreterie regionali dei sindacati dei trasporti Filti CGL Fite CISL Will Trasporti e UGL Fast in vista del secondo sciopero nazionale del comparto appalti proclamato per l'intera giornata di lunedì 24 settembre a due mesi di distanza dalla precedente mobilitazione come nel resto del paese si legge in un volantino unitario anche in Friuli Venezia Giulia si assiste ormai da tempo allo spezzettamento di attività di pulizia in molteplici lotti che determina inefficienze esubiri licenziamenti riduzioni di orario e part time obbligati da qui e dalla mancanza di risposte sia dal gruppo FS che dalle istituzioni affermano i sindacati la nuova stensione dal lavoro volta anche a rivendicare nuove soluzioni per i lavoratori coinvolti visto l'esaurimento degli ammortizzatori sociali in un settore che a livello nazionale conta circa 2000 esuberi su un totale di 10.000 occupati una ricercatrice di Codroipo è entrata nell'Olimpo degli scienziati a renderne merito a Silvia Marchesan in forza all'Università di Trieste è stata la rivista Nature C'è anche una friulana tra gli undici ricercatori emergenti che secondo la rivista Nature stanno lasciando il segno nella scienza e hanno il mondo ai loro piedi si tratta di Silvia Marchesan 39 anni originaria di Codroipo in forza all'Università di Trieste arrivata a sesta nella prestigiosa classifica tra gli undici anche un altro italiano Giorgio Vacchiano della statale di Milano risultato undicesimo Nature ha selezionato i migliori profili tra 500 ricercatori di tutto il mondo Silvia Marchesan del Dipartimento di Chimica Organica dell'Ateneo Giuliano ha sviluppato un idrogel poco costoso ed efficace di proteine che si autoassemblano utile per riparare i tessuti del corpo e rilasciare farmaci io credo che questo riconoscimento sia dovuto a una molteplicità di fattori innanzitutto penso che abbiano guardato in generale un percorso di persone che fanno ricerca multidisciplinare e che hanno avuto esperienza internazionale e che quindi in qualche modo hanno superato le barriere che ci possono essere tra una disciplina e l'altra oppure tra uno stato e l'altro Dopo il dottorato in chimica a Edimburgo e le ricerche a Londra in Finlandia e Australia la ricercatrice friulana è tornata in Italia nel 2013 dove due anni dopo ha ottenuto fondi per il progetto SIR del MIUR che le hanno permesso di aprire un suo laboratorio all'Università di Trieste L'Italia negli ultimi anni sicuramente ha fatto tanti sforzi per cercare di riattirare i ricercatori dall'estero e reinserire in Italia deve fare ancora di più molto di più dall'estero oltre ad avere molte più risorse per la ricerca ma anche i sistemi sono molto più efficienti l'Italia soffre di una grandissima pesantezza burocratica quindi ecco il mio grande desiderio è quello di snellire notevolmente la burocrazia italiana perché potremmo fare tanto di più ma non solo io ma anche tutti i miei colleghi è il momento ora delle nostre pillole vediamo se sono un malore o una caduta sono risultati fatali a una 33enne originaria di Artegna ma residente a farla di Maiano Sara Felice il suo corpo senza vita è stato ritrovato sul pianerottolo di casa da dei vicini sono stati allertati i soccorsi sopraggiunti con un'ambulanza ma per la giovane mamma impegnata come animatrice non c'era più nulla da fare dell'accaduto i militari dell'arma dei carabinieri della compagnia di Udine e della stazione di Maiano giunti sul posto per rilevare la situazione hanno informato la procura della Repubblica che ha disposto l'esame esterno del corpo trasportato in ospedale a San Daniele girava con un'auto con dispositivi di emergenza fissi, luminosi e sonori in uso le pubbliche amministrazioni con i colori e lo stemma della Repubblica Italiana e l'indicazione del Ministero dell'Ambiente la Polfer di Udine ha denunciato un uomo che risultava aver falsamente attestato alla pubblica amministrazione l'appartenenza del veicolo alla presidenza del Consiglio dei Ministri gli accertamenti della Polizia hanno permesso di verificare la falsità delle dichiarazioni e delle documentazioni esibite peraltro l'uomo era già stato condannato per un analogo episodio Autostrada 4 chiusa tra Portogruaro e la Tisana in direzione Trieste a causa di un incidente accaduto verso le 14.30 il sinistro ha richiesto anche la chiusura dell'allacciamento a Portogruaro in direzione Trieste e l'istituzione dell'uscita obbligatoria a Portogruaro all'altezza dell'area di servizio di Fratta Sud un camion è finito di traverso occupando la careggiata e bloccando il traffico si sono così formate code di alcuni chilometri tra Sanstino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste all'altamento della protezione civile regionale a causa di un fronte atlantico che porterà domani a un peggioramento del tempo seguito da un progressivo raffreddamento atmosferico localmente sarà possibile qualche temporale forte con piogge anche intense specie sulla pianura udinese sulla costa e sulla fascia orientale sulla costa soffierà vento moderato da sud al mattino poi vora sostenuta in serata ci sarà un miglioramento con attenuazione delle piogge le temperature saranno in diminuzione con i valori minimi nella notte tra domani e domenica a un anno dall'incendio che l'ha devastata la ronca di Indimeduna uno stabilimento nuovo e tecnologicamente avanzato intanto domani ci sarà una festa per i lavoratori ma per il futuro l'azienda produttrice di pizza sogna in grande un anno fa nell'arco di poche ore 6.000 metri quadri di stabilimento e 4 linee produttive su 6 sono andati letteralmente in fumo oggi la ronca di Indimeduno festeggia il nuovo stabilimento sorto al posto di quello andato bruciato una struttura tecnologica ed eco sostenibile costruita a tempo di record e da dove è da poco entrata in funzione una nuova linea altamente performante che presto sarà affiancata da altri due impianti la linea numero 7 che a pieno regime potrà sfornare fino a 150.000 pizza al giorno è la prima di quelle costruite per sostituire le 4 colpite dall'incendio per realizzare quest'opera l'intero polo di Meduno è stato riprogrammato tenendo conto delle ultime innovazioni in fatto di tecnologia sicurezza ergonomia e sostenibilità ambientale e con l'obiettivo di avere già dall'anno prossimo uno stabilimento visitabile del pubblico sabato 22 settembre intanto la nuova vita sarà festeggiata dai lavoratori gli stessi che nell'ultimo anno hanno accettato nuovi orari e turni sette giorni su sette per non perdere ordini ai clienti il rimborso assicurativo e tutto l'utile di esercizio del 2017 saranno interamente reinvestiti nelle attività di Roncadin che punta a crescere ancora a ricostruzione completata e dentro un quinquennio spiega l'amministratore delegato Dario Roncadin il nostro obiettivo è di arrivare a raddoppiare raggiungendo circa 200 milioni di euro di fatturato e una produzione di un milione di pizza al giorno come sappiamo è stato dato il via libera definitivo del senato al decreto mille proroghe primo passo verso i rimborsi per i risparmiatori traditi ma in regione i beneficiari si contano sulle dita di due mani ne abbiamo parlato con Barbara Puschiasis presidente di consumatori attivi che ci ha detto c'è ancora tantissimo da fare e la strada è in salita con questo varo del decreto mille proroghe che cosa può scattare ormai ufficialmente? si dà avvio subito a quelli che sono i rimborsi sprint quindi la possibilità per coloro che hanno ottenuto la pronuncia da parte dell'arbitro CONSOB di poter ottenere in tempi brevi un rimborso fino al 30% della somma perduta che però non può essere superiore ai 100 mila euro le ripercussioni sulla nostra regione quasi nulle nel senso che sono pochissime veramente si contano forse su una mano sulle dita di una mano le persone che sono riuscite ad ottenere questo tipo di pronuncia perché ricordiamo che già dal luglio del 2017 non era più possibile presentarle davanti all'arbitro l'ulteriore novità è che il termine per l'adozione del decreto attuativo del fondo per il ristoro dei risparmiatori traditi sul quale abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando da tantissimo perché riteniamo che sia l'unica soluzione è stato posticipato al 31 di gennaio del 2019 doveva essere già adottato entro il 31 di marzo 2018 quindi c'è un ulteriore slittamento dei termini di circa ancora un anno noi quello che chiediamo è sicuramente di proseguire quelli che sono i lavori che assieme al governo abbiamo iniziato a fare quindi il tavolo tecnico deve nuovamente riunirsi ci saremo anche noi per appunto riuscire a aumentare la dotazione finanziaria del fondo e riuscire ad allargare la platea circa di 400 milioni di euro 400 milioni di euro che dovrebbero essere già messi con la prossima legge di bilancio un festival della letteratura dedicato agli editori friulani in occasione della notte dei lettori e questo il progetto dei comuni dell'interland udinese non solo frico e polenta ma anche letteratura e poesia ovviamente in lingua friulana e questo è il progetto a cui sta lavorando il comune di Udine insieme ai paesi limitrofi per arricchire l'offerta culturale del territorio puntando sulle pubblicazioni degli editori locali come ormai ci ha abituato la nuova giunta non si potrà prescindere però dalla valorizzazione delle lingue minoritarie un affolato incontro fra tutti gli assessori alla cultura ha certificato la nascita dell'idea la macchina organizzativa si è già messa in moto la data zero dell'evento potrebbe essere concomitante alla notte dei lettori già apprezzato evento del calendario udinese un festival della letteratura un festival però dedicato alle case editrici del nostro territorio e un festival dedicato alle lingue minori e quindi innanzitutto alle lingue meno usate e quindi la lingua friulana quindi unire le forze della parte come dire imprenditoriale con quelle che sono le caratteristiche della valorizzazione delle lingue meno usate e quindi il nostro friulano un'iniziativa che deve unire tutti quanti questi nostri comuni e promuovere un'offerta che sia originale anche nei confronti delle altre grandi iniziative che si svolgono nella nostra regione mi piacerebbe ecco se posso dare una data unire questa iniziativa alla notte dei lettori che si fa a Udine da alcuni anni in modo che ci sia questo completo come dire panorama dell'offerta e anche del consumo dei libri e della letteratura un piccolo esercito di 200 ragazzi pronti ad aiutare il pubblico a risolvere anche eventuali problemi organizzativi sono i cosiddetti angeli di Pordenone Legge una presenza costante in città durante il festival del libro l'anima di Pordenone Legge sono loro dalla prima edizione nel 1999 sono un supporto fondamentale per la manifestazione e per aiutare chi arriva in città per godersi questi giorni di cultura sono gli angeli un piccolo esercito di giovani tutti con maglietta alata d'ordinanza che vegliano sugli eventi e sui luoghi del festival del libro quando Pordenone si tinge di giallo arrivano gli angeli e per i ragazzi del capoluogo far parte di questa squadra è qualcosa di veramente speciale la Pordenone Legge per me è tradizione cioè settembre vuol dire Pordenone Legge e si fa il mio ormai è il nono anno che faccio Pordenone Legge quindi ho iniziato in seconda superiore e ora mi laureo quindi credo sia l'ultimo però non si sia mai forse fino ai 90 anni si arriva ed è bello perché vedi sempre i giovani mi distruisci mi piace molto diciamo che c'è una una distinzione tra angeli della logistica e angeli del presidio dei luoghi che si contraddistingue banalmente dalle magliette quindi colore nero per gli angeli della logistica e giallo per quelli del presidio luoghi e la cosa bella è che entrambe le squadre diventano diciamo un grande team perché durante la manifestazione poi si collabora molto quindi è bello anche trovare le competenze nell'altra squadra e poter dare fiducia nei propri compagni abbiamo queste maglie anche cioè quella gialla il colore comunque ben visibili chiunque arriva a Pordenone legge vede noi e ci fa domande e si lamenta con noi anche e le domande più gettonate sono dove sono questi luoghi e ovviamente si manda sempre a prendere il programma e a vedere a consultare c'è la cartina e le lamentele ne arrivano delle più svariate però noi col sorriso rispondiamo sempre e questo fine settimana ci sarà anche il gran finale del Cervignano Film Festival domani interverrà l'ospite d'onore David Fox considerato un vero e proprio guru dei videogames e domenica ci saranno le premiazioni del concorso si avvicina il momento del gran finale per il Cervignano Film Festival il concorso internazionale per corti, documentari e videoclip dedicato nella sua sesta edizione a cinema e videogiochi sabato alle 20 al Teatro Pasolini ci sarà l'atteso incontro con David Fox ospite d'onore della Kermess per la prima volta in Italia guru nel settore dei videogames Fox è autore di alcune delle avventure grafiche più famose prodotte e distribuite della Lucasfilm nel corso della serata come tributo italiano a questo grande autore saranno presentate in anteprima mondiale due opere inedite dedicate al videogame cult Zack McCracken e The Alien Mindbenders a 30 anni dalla sua uscita domenica alle 21 sarà invece la Sala Aurora ospitare la cerimonia di premiazione di tutte le categorie del concorso con la consegna del cervo d'oro e la proiezione dell'opera vincitrice durante la serata presentata dall'autore conduttore e regista Rai Mario Mirasola sarà omaggiato un anno della scomparsa il poeta Pierluigi Cappello tra gli altri eventi del festival la Sala Parocchiale Don Silvano Coccolin si trasformerà in gamers e in games arena con la ricostruzione di una vera e propria Sala Giochi Vintage E per lo sport allenamento mattutino per l'udinese di Velasquez seduta unica alle 10.30 con due gruppi divisi tra lavoro aerobico e calcio tennis la rifinitura tattica con gli ultimi test in vista del Chievo si terrà domani mattina con la conferenza stampa del tecnico spagnolo fissata alle 13 ovviamente in diretta su Gnews TV Julio Velasquez mantiene le carte coperte sulla sua udinese nessuna sorpresa nella seduta del venerdì quella dove abitualmente il tecnico permette al suo gruppo di dosare gli sforzi prima del match day dopo la prima fase di esercizi in palestra il primo a uscire sul campo numero 3 è stato Valomberami seguito poi da due gruppi divisi tra calcio tennis e lavoro aerobico nessuno spazio dunque per la tattica che tornerà centrale nella rifinitura pre partenza per Verona le ultime idee sull'undici anti Chievo saranno testate domani mattina con l'unica defezione settimanale rappresentata da Giuseppe Pezzella il cui risentimento muscolare lo colloca i box in una fase sicuramente intensa dal punto di vista degli impegni tre gare ravvicinate in cui andranno dosati gli sforzi è valutato l'impianto di gioco anche considerando le grandi differenze sul piatto di moduli e qualità delle prossime rivali il ritorno di Barak già sceso in campo la Dacia Arena contro il Torino nel finale di gara aumenta i possibili ballottaggi che coinvolgono soprattutto centro campo e attacco meno ipotizzabili cambi nel reparto difensivo dove la cerniera ha dimostrato tenuta e capacità di soffrire sugli esterni due posti per tre maglie con il bomber de Paul che sembra l'unico certo della casacca da titolare e Pussetto e Macis a contendersi l'auto di destra rotazioni che saranno valutate di volta in volta riaggiornando la forma fisica solo dopo i 90 più recupero del Bentegodi per gettarsi nell'infrasettimanale con la Lazio difficilmente il mister concederà ulteriori dettagli al Chievo l'appuntamento con la conferenza pregare del tecnico spagnolo è per le 13 del sabato facile prevedere che Velasquez rimanga abbottonato sulle opzioni a sua disposizione per mantenere quanti più vantaggi possibili per sorprendere una squadra che vuole annullare quanto prima la penalizzazione in classifica è il duello del Bentegodi vedrà dunque i friulani opposti alla Chievo Fanalino di Coda però una posizione di classifica che non deve trarre in inganno considerando le avversarie affrontate in avvio con tanto di pareggio in rimonta conquistato nella scorsa giornata in casa della Roma Danna punta su un gruppo collaudato e sul talento di alcuni singoli di qualità il saldo è negativo l'umore no al termine di un'estate a dir poco travagliata tra processi ricorsi e rischio di non partecipare al campionato il Chievo Verona è a fondo classifica dopo quattro giornate ma la micro penalizzazione subita rispetto a quella attesa permette alla squadra di Lorenzo Danna di poter cercare la salvezza senza un handicap di partenza che pregiudichi l'intera stagione il meno tre è diventato meno uno grazie ai due pareggi strappati in casa contro l'Empoli e quello molto più rumoroso in rimonta contro la Roma all'Olimpico una sola stecca quella di Firenze con ben sei gol su Groppone e poi le solite gare da Chievo con tanto di clamoroso vantaggio provvisorio la prima giornata contro la regina Juventus una squadra cambiata poco complice il mercato quasi congelato per i dubbi sulla categoria che ha perso due pedine importanti come Inglese e Castro ma la compattezza di un gruppo che si conosce è un vecchio segreto dei mussi volanti oltre 100 presenze in divisa clivense per Sorrentino Radovano Vicettemai e Cesar cardini di una squadra che mantiene tra le sue fila anche il recordman Pellissier oltre all'insidioso mancino di Walter Birsa spesso velenoso contro i bianconeri la tecnica dello sloveno sarà ancora decisiva per le sorti salvezza che passeranno anche dai piedi di Emanuele Giaccherini decisivo dal suo approdo a gennaio con tre reti in 12 gare fondamentali per mantenere la categoria e far propendere Campedelli per il riscatto dal Napoli oltre che dalla crescita di Marius Stepinski altro prestito convertito in acquisto definitivo dopo il buon debutto della passata campagna il polacco è il miglior marcatore con due centri su cinque complessivi a fronte di 11 reti subite che pongono il Chievo come la peggior difesa del campionato ma guai ad analizzare questa statistica senza pesare la giornata storta del Franchi e uno spirito combattivo ulteriormente rinfrancato dal termine dei guai extracampo con questo servizio si conclude questa nostra edizione del TG News ultima ora vi ringraziamo per l'attenzione e buon proseguimento di serata grazie a tutti